ha vinto eh? Imerio oh ha vinto una a quanto so una volata nei negri volata secondo i negri fai la volata gatta eh oh Imerio io cane dio vai vai hai visto ogni tanto capisci qualcosa un mal di testa Grazie a tutti. Ordine d'arrivo ufficioso, buona De Maria Raizoni, cazzo siamo di terzo un po'. Buona per la Nere Lucchini, Tazzo e Potenzano, buona De Maria Raizoni. Grazie a tutti.